A seguito dell'arresto di due giovani, una ragazza originaria residente a Mongrando ed un giovane di nazionalità marocchina proveniente dal milanese, avvenuto la scorsa settimana con in camera oltre 130 grammi di droga tra eroina, cocaina ed hashish, l'arbergo di strada alla fornace del quartiere Vernato invia una nota per prendere le distanze da quanto accaduto. La precisazione dell'albergatrice, i due sono stati fermati nel piazzale davanti all'albergo e dall'interno non è mai entrato nessun altro oltre loro due. A loro rientro in albergo i due giovani erano stati fermati dalle forze dell'ordine e dall'esito di una successiva perquisizione erano stati trovati in possesso di 70 grammi di eroina, 30 di cocaina e circa una trentina di hashish. Oltre a 10.000 euro, alla giovane arrestata al GIP del Tribunale di Biella aveva concesso l'obbligo di dimora, mentre all'uomo il divieto di trattenersi in città. La legale rappresentante della società classe SRL, società unipersonale proprietaria dell'hotel in questione, tiene a precisare che nessuna attività di spaccio avveniva all'interno della struttura alberghiera. E che le forze dell'ordine lunedì scorso hanno chiesto se erano ancora presenti due persone che erano state regolarmente registrate sul portale alloggiati della questura. La coppia era ospitata in hotel, ma in quel momento non era in camera. Dopo poco sono rientrati e le forze dell'ordine hanno atteso che uscissero nuovamente e li hanno fermati sul piazzale antistante l'hotel. In seguito hanno perquisito la camera, asportando tutti i loro beni personali. Ed ancora nessun soggetto è mai entrato in camera oltre loro due.